Ciao a tutti e a tutti, bentornati sul canale podcast di Mr. Girl. Oggi parliamo di chat di incontri, un argomento molto molto diffuso, soprattutto nel 2021. Non che le chat di incontri prima della pandemia non esistessero, ma ovviamente col fatto di dover stare chiusi in casa la cosa è aumentata. Come si conoscono persone se non posso uscire di casa? Per fortuna ci sono i computer, i tablet, i cellulari. E quindi posso incontrare persone con la comodità delle varie app che non sto qui a nominare, perché immagino che le conosciate tutti. Ma che cosa succede davvero nelle chat di incontri? Beh, come sono le chat di incontri? Innanzitutto, le chat di incontri funzionano così. Vi è un profilo che viene creato da noi con le nostre foto, i nostri dati, ovviamente non quelli sensibili. A volte ci possono essere fatte delle domande sul nostro tipo di pattenere ideale. Lo stesso fanno gli altri utenti della chat, e così le persone si incontrano attraverso quelli chiamati come match. Basta mettere un cuore, una stellina, una X a una persona, e quella entra di merito nei tuoi interessi. Ma molto spesso, dietro alle chat, c'è qualcosa che noi non conosciamo. In chat, chiunque, può essere chiunque. Posso anche essere la regina d'Inghilterra in chat. Nessuno saprà mai la verità finché non avrà l'incontro online. Scusate, l'incontro dal vivo. E molto spesso, in alcuni casi, quando l'incontro dal vivo avviene, ci sono delle sorprese, non spesso così belle. Io non voglio essere quella che mette in guardia le persone dalle chat di incontri nel modo più totale. Nel senso che io stessa ho inconsciuto il mio attuale ragazzo su una chat di incontri. E sono molto contenta di essere andata quel giorno sulla chat e di averla incontrato. Ma ho conosciuto anche persone orribili, persone che mi hanno fatto del male. Ed è vero che una persona orribile la si può conoscere anche al bar. O in qualsiasi altro luogo. Ma le chat di incontri possono essere più pericolose. Perché le persone possono dimostrarsi per qualcosa che non sono. Secondo me sono un metodo comunalto per conoscere persone. Non voglio totalmente ostracizzarle. Perché secondo me non è giusto. Anche perché siamo io in un periodo storico in cui si fa tutto tramite internet. E sarei quasi obsoleta a dire che le chat di incontri vanno eliminate. Ma bisogna prestare molta, molta attenzione. Perché non si sa mai quello che c'è dietro queste cose. Non si sa mai con chi stai parlando davvero. Quindi ecco tre consigli da tenere nel caso vi vogliate sperimentare io un incontro con una persona conosciuta su un sito. Per trovare l'amore. Il primo consiglio è di non stare tanto a chattare. Non dico che dovete uscire lo stesso giorno in cui conoscete la persona sul sito. Ma non rimanete un mese in chat. Rischiate di affezionarvi alla persona. E poi magari rimanere delusi. Quindi datevi un tempo minimo per conoscere un pochettino la persona. E poi usciteci. Affrontate la cosa nel reale. Per sapere chi avete davanti. Secondo consiglio molto importante. Incontrate la persona in un luogo frequentato. Che può essere un bar. Un centro commerciale. Un luogo dove ci sono altre persone. In modo che se la persona che avete davanti non è quella che immaginate. Avete modo di chiedere aiuto. Terzo consiglio. Non dite proprio tutto alla persona con cui vi state conoscendo. Lasciate che si ha il tempo a raccontarvi. Quindi non ditegli tutto subito. Perché nel caso la cosa non andasse bene. La persona potrebbe prendere e usare le informazioni che voi avete dato. A suo favore e a vostro discapito. Questi erano tre consigli utili se decidete di incontrare delle persone sulle chat di incontri. Io che dico sempre alle ragazze ma anche ai ragazzi di stare attenti perché possono essere un buon metodo per trovare la persona della vita ma anche un pessimo metodo. Grazie al prossimo video.